La moda è fatta per andare fuori moda. Coco Chanel. La moda. La moda. La moda. La moda. La moda di quest'inverno ci vuole colorate, fiorate e vellutate. Scegli il tuo stile e Rostaross ha nervi. Yves Saint Laurent disse, il più bell'abito che può abbigliare una donna sono le braccia dell'uomo che ama. Ma per chi non ha la possibilità di trovare questa felicità, io sono qui.